Per prima cosa ho dipinto il muro con la lavabile nera ed ho lasciato asciugare. Poi ho posizionato lo stencil e con la vernice oro e pennello ho decorato il mio muro creando un effetto finta foglia oro. Ho ripetuto l'operazione su tutta la parete. In una stanza con un muro così meraviglioso e originale ci vogliono i mobili e quindi andiamo a prepararli.